Ma perché non ti ha lasciato andare via? Non lo capisco. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Chissà, forse... Forse ti vuol bene. Trampa no. A me? E perché no? Lui è come i cani. L'hai mai visti i cani che ci guardano e parche vogliano parlare e invece abbaiano soltanto? Poveraccio. Eh, già, poveraccio. Ma... se non ci stai fai con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi... quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Il Padre Eterno che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Almeno vedo. E anche tu, anche tu servi a qualcosa, con la tutesta di Arciopo.